Mario Rui, palla dentro, Osimène manda davanti il Napoli al Ferrari, su 1 a 0. Osimène la butta in porta, 1 a 0 Napoli. Tvaraschelya dentro, Osimène, un altro ruggito dal cuore dell'Africa, doppietta di Víctor Osimène. Tap-in di Víctor Osimène, 2 a 0 Napoli. Secondo pallo, Osimène in area, Osimène! Che gol! Víctor Osimène spacca la porta e porta il battaggio al Napoli. Sous-titrage Société Radio-Canada